Io mi sono demoralizzata e ho deciso di chiudere. Non so cosa dire, guarda, è un'ingiustizia, una cosa... è un'ingiustizia proprio, veramente. Si è arresa Rossella Novello, la 65enne titolare del panificio in Viatoffoli 7 a Marghera, chiuso lo scorso 11 marzo per rumori molesti dopo un esposto di alcuni vicini. A giorni il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla possibilità di far aprire il laboratorio alle 6 del mattino, ma nel frattempo ieri gli ultimi due dipendenti le hanno detto addio e Rossella ha gettato la spugna. Allora, praticamente tutti i dipendenti che avevo, uno si mi ha licenziato subito dopo due giorni che l'ho messo in casa integrazione perché naturalmente abbiamo chiuso così e mi ha dato le dimissioni. Adesso anche un altro mi ha dato le dimissioni anche lui. e poi l'altro che avevo ancora, ancora un'altra persona, che anche lui è in casa integrazione, mi ha avvisato che lo hanno chiamato quelli del CAF dicendogli che hanno fatto delle nuove normative e che praticamente andava in pensione. La doccia fredda per Rossella è arrivata l'8 marzo quando la polizia locale le ha comunicato dei sigilli. Se invece di farmi chiudere mi avessero detto guarda i rumori vengono da qua, da qua, da qua, ho fatto tanti lavori dentro, non sono stati sufficienti perché mi sono appoggiata a una ditta che praticamente mi aveva garantito che non si sentiva niente, che qua, che su, che giù, insomma alla fine eravamo ancora fuori decibel, non di tanto, ma niente, il giudice ha preso la decisione di farci, metterci i sigilli in forma cautelativa che non dovevamo lavorare praticamente in laboratorio. Le prime lamentali dei vicini risalgono al 2005. All'epoca la fornaia spostò il laboratorio nel lato nord della bottega. Poi il caso è riscoppiato nel 2021, 33 mila il costo dei lavori per l'insonorizzazione, ma come spiega Rossella sarebbe ancora fuori per qualche decibel. Questo piccolo laboratorio ha solo due macchine, praticamente impastatrici, che sono di ultima generazione, le ho comprate nuove naturalmente, ho insonorizzato 80 cm di abbassamento con le lastre e quelle appunto antisonorizzazione. Adesso i due figli di Rossella sono senza lavoro, Claudio cercherà nel settore trasporti, il forno sta chiudendo davvero dopo 37 anni e i residenti sono senza parole. Mi dispiace in una maniera incredibile perché non è possibile che togliete il pane, il pane a lei prima di tutto e al figlio e poi a tutti noi oltretutto. La sicurezza è molto diminuita perché loro lavorando di notte, avendo persone che andavano mari fuori, il laboratorio acceso, le luci, evitavano, evitavano di, cioè, chi doveva delinquere evitava di farlo, almeno in questa zona qua. Da quando loro sono chiusi mi sono trovato, le stagnole del crack davanti al negozio, la siringa dalla parte di là, escrementi vari. Rossella però non vuole più combattere, la storia del panificio di Viatoffoli sta davvero volgendo al termine, a meno di un miracolo.